Dunque siccome mi hanno fatto un cappuccino così vieni a far lavarse il letto. Allora c'è una che va a farsi il vaccino, no? Si chi va a farsi il vaccino e ha paura, dice io ho paura, io ho paura, ho paura degli aghi. Dice signora non si preoccupi che le infilo pochino pochino, gli infilo solo la puta. Dissiasi anche il mio marito e ora c'ho quattro figli.